Protocollo d'intesa al Comune di Torre del Greco con l'Associazione Prima Aurora. Un progetto che si pone come obiettivo quello di riforestare le aree maggiormente colpite dagli incendi degli scorsi anni. L'azione di rimboschimento, che sarà su base di un progetto del Presidente dell'Associazione, Silvano Somma, sarà del tutto gratuita per il Comune di Torre del Greco. La finalità è sempre quella di ripristinare e rinaturalizzare le superfici che sono state percorse dal fuoco, ma anche quella ovviamente di riavvicinare le popolazioni locali e le comunità locali al proprio territorio, perché la nostra idea è sempre unica, ossia quella che è l'amore dei propri cittadini, che può davvero poi difendere il nostro gigante, appunto il nostro caro e amato Vesuio, e anche il Parco Nazionale che su esso sussiste. Quali sono i territori che saranno interessati nel progetto? Sono appunto quei territori che nel 2017 e nel 2016 sono stati percorsi dal famoso incendio. Sono territori abbastanza impervi, dove la vegetazione di per sé ha di più difficoltà a crescere, quindi tramite questi nuclei di rimboschimento e rinaturalizzazione faremo in modo che il bosco possa tornare anche su questi versanti. Quali sono le attività in particolare che avete già in programma? Procederemo con la parte progettuale dell'attività, quindi tutti gli interventi saranno progettati e poi autorizzati dagli enti sovrappreposti e successivamente si passerà poi con le fasi operative in campo, ovviamente nel periodo atunnale, quando le condizioni meteorologiche ed ambientali saranno idonee alla messa a dimora di nuovi alberi. Quali sono quindi i tempi per portare a compimento il progetto? Nell'arco massimo di 9-10 mesi avremo portato a termine questa fase del progetto, perché ricordo che anche questi interventi sono inseriti nell'ambito di un progetto più grande, che è quello di riforestiamo il gigante, che si sta estendendo sempre di più, sta coinvolgendo sempre più territori, più associazioni, più realtà e più enti. Tappa importante che sancisce l'inizio di una collaborazione tra amministrazione ed associazione Prima Aurora, che si fissano come obiettivo, quello di riqualificare le aree interessate nell'arco temporale di 8-10 mesi. Una bella attività proposta da questa associazione per riforestare il gigante, coinvolgendo un po' tutte le associazioni del territorio. Si tratta di un progetto relativo praticamente alla riforestazione dei nostri territori comunali, che sono stati colpiti dagli incendi del 2017. È un'attività che anche grazie alla consigliera Pomposo ho colto con grande piacere, perché lei è molto attenta all'ambiente e quindi quando abbiamo avuto questa proposta l'abbiamo valutata e abbiamo pensato che coinvolgere le associazioni, coinvolgere i cittadini, quindi anche un modo di cittadinanza attiva per riforestare, stare a contatto con l'ambiente e il territorio, non potrebbe essere che una cosa più bella per la nostra città di Torre del Greco, per il nostro Vesuvio. Amministrazione che strizza quindi l'occhio alle associazioni e al territorio. È stato firmato il protocollo d'intesa tra Comune e l'Associazione Prima Aurola. L'Associazione Prima Aurola si avrà di persone esperte nel settore per gli incendi boschivi del 2016-2017. C'è uno studio dietro a tutto questo fatto dall'Università di Agraria della Federico II. Finalmente ci siamo attivati per iniziare con una vera e propria progettazione. Con la collaborazione dell'Associazione Prima Aurola andremo a riprogettare quelli che sono gli interventi di riforestazione nelle particelle boschive comunali e grazie poi ai vivai della regione riusciremo ad intervenire su queste zone che sono state percorse dal fuoco e ancora ad oggi risultano in uno stato di degrado.